E l'amore perché tutti sognano, quell'amore che i cantanti cantano. Domenica 1 settembre il Comune di Mendatica con il patrocino dell'Università di Genova in collaborazione con l'Associazione Proloco dedica un'intera giornata alla scoperta della montagna attraverso suoni, colori, profumi, sapori e manualità. Tutti i cinque sensi accoglieranno i visitatori alla prima edizione di Montagnart, festa dell'arte e della cultura di montagna. Un itinerario fra le strade del borgo per apprezzare il valore della montagna, grande portatrice e detentrice di benessere. Le vie del paese ospiteranno arte, musica, fotografia oggettistica e libri, che saranno i protagonisti dell'evento. In particolare saranno presenti aie dedicate alla scoperta di libri di montagna in tutte le sue tematiche, il laboratorio locale di artigianato che sarà capofila di una serie di bancarelle di manufatti, le esposizioni di fotografie con panorami e scorci dei borghi e delle Alpi Liguri, il tutto accompagnato dall'armonia dei suoni di gruppi corali e strumentali. Negli angoli letterari autori ed editori illustreranno in due momenti della giornata i loro testi con la lettura di brani.